E' un attento! No, Bobbie, è un attentato! E' il boss finale! E' un attento del mezzo! Io no! Come noi gli uccani! Ma sti ma non allontanarti non basta, no? Devo vivere così? No, sì! No, ma io, Bobbie, ti giuro che sei contento! Ma valla! Ma nonno! Però perchè il mio kick ci inizia a aumentare il volume? Cos'è? Cos'è? No, ma che c'è? Bobbie, che manca tanto! Bobbie! Ma non è la mia schiena? La mia scheda video ha raddoppiato il lavoro appena mi sono avvicinato! No, ma non è la mia scheda! No, ma non è la mia scheda! No, ma non è la mia scheda! Oh, guarda tu un negro alto, mi sa! Oh, ma non è la mia scheda! No, ma perché nel nether non c'è l'acqua! Ma Dio corpo! Ma basta! Eh, andiamo un po' di guida qui, non so più da stare! E qua, qua, qua! Eh, poi stiamo un po' a scendere! Round 1, Fight! M 홧ast! No, ma non è la mia! Non è la mia scheda, non è la mia scheda! No, non è la mia scheda! Non è la mia scheda! Poi creda che è la mia scheda più grande! E i miei scendere! E qui c'è l'acqua? un pezzo lì fra il muoio qualcuno mi potrà fare aiuto aiuto noi siamo io 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 ma io sono già da land ragazzi ho due mela ma c'è un'ora Gabbo no avete qualcosa per Fabio ma no se dovete darmi un banco d'amore ma ho sparato una freccia ma io non ho armatura non ho niente è tutto sto schifo Fabio ma nel villaggio ho trovato tre stagini ma anche a casa signor Fabio ma non è vero grazie mille grazie grazie l'abbiamo rubato tutti adesso è solo una e mezzo se va bene minchia voglio dormire fate uno screen vai faccio io screen dei dell'un milione un milione di street link no 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 da dove si guarda c'è del mangiare c'è del mangiare a me si è buggato ultimamente oh oh cazzo fermi guarda io guarda vieni sotto vieni sotto vieni sotto vieni sotto vieni sotto andiamo a distruggere ma che sto qua che ha l'immensibilità ma c'è qualcuno che ha l'immensibilità vabbè chiaramente si qua c'è gente con l'immensibilità io ho una mera Fabio Fabio mi lo devi mettere lo suicidio devi fare il termine cazzo questo giova io oh ti cazzo di rimettere siamo a che non in fate tutti gli end no menateli no 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 vai 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 ma tu lo devo mettere ahahah shush shush che merda ahahah ho fatto la double t no 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 e dove ti fai Fabio adesso? ma non posso intanto o sta merda? obbio 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 oh pollo guarda all'ocelot pollo guarda ma no ma non c'è no 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 ma non c'è no 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 è lì difficile una volta non mi inbaglio no son morto ma di ma perchè sono volato? Oh l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto perchè io stavo volando Sì Oh Prendo Mentre Gigi 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 Fotti lex subito subito Stavolta la prendo come l'altra volta No no Ma c'è ancora l'axolot nell'endo Sì L'ho portato io e lasciatelo lì Non uccidete Sì 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 Sì